Salve a tutti amici di YouTube Mi chiamo Lorenzo Grandi, proprietario del sito benessereipnosi.com Questo audio è una versione migliorata di un audio che avevo creato in precedenza Se hai davvero bisogno di qualcosa di decisamente più avanzato Clicca nel link qui sotto in descrizione o nei commenti Vedrai che potrà cambiare e trasformare decisamente la tua vita in meglio Come ha fatto con me e con tantissime altre persone Questo audio ti aiuterà ad attrarre soldi, fortuna e abbondanza nella tua vita Puoi ascoltare questo audio quando vuoi, a parte quando devi condurre veicoli Per ottenere dei risultati consiglio di ascoltarlo per un periodo minimo di 28 giorni Sappi che la velocità delle affermazioni è assolutamente normale E mentre ripeto quello che dico Pensa a che cosa desideri o vuoi ottenere Iniziamo Sono una calamita per il denaro Attraggo ciò che sento ed è per questo motivo che mi permetto pensieri Che mi generano tranquillità e felicità Controllo facilmente le mie emozioni Posso e mi permetto Attrarre grandi quantità di denaro facilmente Posso e mi permetto creare business di successo facilmente Sono una persona intelligente e straordinaria Ogni giorno sono sempre più intelligente Sento prosperità nella mia vita Sento prosperità nella mia vita Attraggo denaro come una calamita Ho grandi quantità di denaro E continuano ad aumentare velocemente Le mie abilità per guadagnare denaro sono straordinarie Ho pensieri che generano emozioni positive Sono destinato ad avere successo in tutto quello che faccio Mi permetto solo pensieri positivi Penso a nuove idee per ottenere e guadagnare denaro Ho sempre nuove idee per generare denaro Posso e mi permetto con facilità Attrarre grandi quantità di denaro Invento facilmente nuovi metodi per guadagnare denaro Sono una calamita per attrarre nuovi clienti alla mia impresa Sono una persona di successo Mi permetto solo pensieri che mi generano tranquillità e felicità Controllo totalmente le mie emozioni Mi sento tranquillo e sereno in ogni momento Posso e mi permetto creare business di successo I miei pensieri e le mie emozioni Sono pieni di abbondanza e prosperità Attraggo solo cose e persone positive alla mia vita Ho grandi quantità di denaro nella mia vita Mi permetto guadagnare denaro costantemente Le mie entrate di guadagno crescono ogni giorno sempre di più Sento abbondanza in tutti gli aspetti della mia vita Mi permetto solo sentimenti di benessere Cerco e attraggo sempre nuovi metodi per poter guadagnare denaro Posso e mi permetto essere un imprenditore di successo Ho sentimenti e pensieri di tranquillità e felicità Il denaro fluisce nella mia vita in abbondanza I miei pensieri sono pensieri di successo E di grande abbondanza e prosperità Sono una persona intelligente Credo sempre in me stesso e nelle mie capacità Sono una persona straordinaria Mi amo per quello che sono e per tutto quello che posso attrarre Ho pensieri positivi riguardo al denaro Sono pieno di abbondanza e prosperità Adesso, in questo momento Accetto l'abbondanza E ringrazio l'universo per avermi aperto le porte alla prosperità Sono completamente grato Perché so che il meglio arriva alla mia vita Sono una calamita per il denaro Attraggo ciò che sento Ed è per questo motivo che mi permetto pensieri Che mi generano tranquillità e felicità Controllo facilmente le mie emozioni Posso e mi permetto Attrarre grandi quantità di denaro facilmente Posso e mi permetto Posso e mi permetto creare business di successo facilmente Sono una persona intelligente e straordinaria Ogni giorno sono sempre più intelligente Sento prosperità nella mia vita Sento prosperità nella mia vita Attraggo denaro come una calamita Ho grandi quantità di denaro E continuano ad aumentare velocemente Le mie abilità per guadagnare denaro sono straordinarie Ho pensieri che generano emozioni positive Sono destinato ad avere successo in tutto quello che faccio Mi permetto solo pensieri positivi Penso a nuove idee per ottenere e guadagnare denaro Ho sempre nuove idee per generare denaro Posso e mi permetto con facilità Attrarre grandi quantità di denaro Invento facilmente nuovi metodi per guadagnare denaro Sono una calamita per attrarre nuovi clienti Alla mia impresa Sono una persona di successo Mi permetto solo pensieri che mi generano tranquillità e felicità Controllo totalmente le mie emozioni Mi sento tranquillo e sereno in ogni momento Posso e mi permetto creare business di successo I miei pensieri e le mie emozioni Sono pieni di abbondanza e prosperità Attraggo solo cose e persone positive alla mia vita Ho grandi quantità di denaro nella mia vita Mi permetto di guadagnare denaro Mi permetto guadagnare denaro costantemente Posso e mi permetto essere un imprenditore di successo Ho sentimenti e pensieri di tranquillità e felicità Il denaro fluisce nella mia vita Mi permetto di guadagnare denaro costantemente Mi permetto di guadagnare denaro costantemente I miei pensieri sono pensieri di successo E di grande abbondanza e prosperità Sono una persona intelligente Credo sempre in me stesso e nelle mie capacità Sono una persona straordinaria Mi amo per quello che sono e per tutto quello che posso attrarre Ho pensieri positivi riguardo al denaro Sono pieno di abbondanza e prosperità Adesso, in questo momento Accetto l'abbondanza E ringrazio l'universo per avermi aperto le porte alla prosperità Sono completamente grato Perché so che il meglio arriva alla mia vita